Buonasera a tutti ed eccoci finalmente all'analisi settimanale sull'indice italiano, ovvero il Mib. A che punto siamo rispetto a tutti gli altri indici? Noi ci siamo regalati un raccordo corretto tra un mensile e un potenziale non mensile e siamo arrivati a 7 barre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, in realtà 6 questa non la contiamo se poi farà partire il nuovo T settimanale, ho già indicato al gruppo premium qual è l'aspettativa per la prossima settimana attenzione perché soltanto un'apertura inferiore ai 21.895 ovvero in violazione appunto con una violazione di questo minimo annullerebbe questa doji che dovrebbe essere pausa dalla discesa, dal trend in essere tra l'altro con chiusura all'interno dell'acumo che è una cosa rassicurante e qui ribadisco siamo a 6 più 1 giorno su DAX situazione differente siamo a 11 giorni rimbalzo anche in questo caso atteso su S&P500 siamo da tutt'altra parte perché abbiamo un raccordo di grado settimanale non come da noi T-1 quattro giorni tra un mensile e un mensile ma settimanale tra potenzialmente un primo T più 3 trimestrale ed un secondo che passerà quindi anche in questo caso come vedete i raccordi seguono le regole non ci inventiamo cose particolari per mettere tacconi a centrature che non funzionano qui tutto torna secondo le regole come vedete anche in questo caso abbiamo un'altra candela che dovrebbe essere di spinta un hammer, un martello per cui anche qui una sorta di hammer anche sul MIB una doji hammer tutti i tre mercati chiamerebbero rimbalzo con fasi differenti come avete visto di inverso a che punto siamo? anche in questo caso di inverso siamo arrivati a 23 barre su minimo 24 e per andare a chiudere un mensile inverso abbiamo bisogno di spinta verso l'alto che può arrivare anche dopo questa candela ma spinta comunque verso l'alto quel baffo di cui parlo sempre quando faccio le analisi su bitcoin e quindi anche in questo caso avremo tutto lo spazio per salire perché siamo alla prima, seconda, terza, quarta candela e se vuole iniziare ad andare a creare la condizione necessaria e sufficiente dovrà tornare dove? in realtà se possibile qui sopra sopra 22.572 dollari e quindi 572 punti ovvero sopra l'acumo in realtà potrebbe andare anche ben sopra ovvero anche sopra i 22.881 e quindi rendere tutto un T inverso ribassista ovvero baffo rialzo questo è quello che ci si può attendere guardando queste candele guardando il tempo ciclico e però se non arriverà una spinta dai volumi non è che faremo molto in questo caso qui tra l'altro abbiamo fatto un rimbalzo che potrebbe essere un nuovo T-3 ma non abbiamo ancora una violazione di swing che ci dica che è partito qualche cosa di diverso da un semplice ciclo giornaliero con magari già anche un secondo ciclo giornaliero anche se attenzione siamo a 31 bar a chi del gruppo premium vorrà e mi metterà un bel tag racconterò dove passo lo swing per la partenza di un nuovo T settimanale primo ciclo settimanale con tutti i crismi sesto T-3 ribassista togliamo pure ormai il punto di domanda e nulla ci dice ancora che cosa accadrà a questi due cicli se faranno parte di un nuovo settimanale quindi rimanrà N-3 o viceversa di inverso ricordiamo 1 qui sarebbe bello fare un 2 ma 23 non mi è piaciuto molto ci sono un paio di centrature corrette ma a un certo punto si arriva qui con tutte e due quindi siamo tranquilli che da qui è molto probabile che sia partito il quarto T-3 come avevo già messo venerdì scorso come allarme anche se erano le tre streghe avevo segnalato che sopra i 22.225 avrei valutato eventualmente posizioni long non ci siamo andati per quanti tic? 4 tic scarsi e quindi non ci siamo già messi long vedremo a mezzanotte a che punto saremo se i future daranno rialzo o che cosa e in realtà però dovremo ospitare fino nel 9.01 di domani mattina per la continua per capire in quale delle due opzioni saremo come al solito controllo sugli swing vi ringrazio per il vostro tempo buonanotte a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti